Meno 10,4% nel 2020 e poi un rimbalzo al più 6% nel 2021. Sono le ultime previsioni sull'andamento del PIL elaborate dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine. Blocchi produttivi, situazione di incertezza e difficoltà finanziarie di molte imprese rappresentano un freno importante agli investimenti per i quali, sottolinea la Presidente Anna Mareschi Danieli, nell'anno in corso ci si attende un calo del 18,8% per poi risalire del 9% al prossimo anno. Il settore costruzioni, penalizzato dal blocco dei cantieri nella prima parte del 2020, dovrebbe ricevere un maggiore impulso nella seconda anche a seguito degli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico e sismico. Anche per il commercio estero si attende una parziale ripresa, ma la stima a fine anno è di un meno 15,3% per poi aumentare del 10,9% nel 2021. Il tasso di disoccupazione è previsto in forte aumento il prossimo anno, passando dal 6,6% di questo 2020 all'8,5%. In forte contrazione i consumi delle famiglie, anche perché c'è anche chi sceglie forme di risparmio precauzionale, meno 9,9% quest'anno, per poi salire al 6,3% nel 2021. Il ritorno ai livelli pre-crisi, commenta la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, potrebbe essere accelerato se i fondi comunitari, ad iniziare dal recovery fund, saranno utilizzati per le riforme necessarie al nostro Paese, a cominciare dalle infrastrutture, materiali e immateriali, senza dimenticare scuola, ricerca, giustizia e pubblica amministrazione.